Un video estremamente conciso questo. Dopo due video lunghissimi di oltre 40 minuti, beh, facciamo un video più corto. Allora, questo video è molto semplice. Capoverde, il mio viaggio in Africa. Nel 2006 sono stato in Africa. Sono stato a Capoverde, sono stato a fare un po' di giretti fra le isole. E c'è una cosa che succede a Capoverde, esistono gli alugher, non ci sono i taxi. Ci sono delle persone che hanno la macchina, solitamente hanno dei pick up, con due panche dietro nel cassone, caricano gente e quando sono pieni partono. Quindi quando tu gli dici, ma che ora partiamo? loro ti rispondono, quando siamo pieni. E quindi tu capisci che la concezione del tempo in Africa è completamente diversa dalla concezione europea. Perché non si fanno viaggi a vuoto, non c'è la corriera vuota che gira. La corriera parte, il taxi parte se è pieno. Perché devi ottimizzare le spese. di base. La cosa incredibile di quel viaggio è che eri in Africa, uno, è stupenda, l'Africa è bellissima. Un continente meraviglioso. Poverissimo però stupendo, cioè ricchissimo di tante altre cose. E la cosa pazzesca è che essendo in un paese africano non esisteva il roaming nel 2006. Non c'era navigazione dati, non c'era Whatsapp, non c'era un cavolo di niente. Anche perché se ci pensi, iPhone è uscito nel 2007, iPhone 1 e di sicuro la navigazione dati ai tempi non costava poco. Quindi quando eri in Africa, stavi in Africa, punto. Non chiamavi, mandavi un messaggio ogni tanto perché mandare un messaggio sono vivo e eri lì. Mentre eri ad aspettare sul ciglio della strada che si riempisse il camioncino o su nel camioncino se viaggiavi con loro. Se invece il tassista voleva che tu montassi davanti perché non si fidava di lasciarti viaggiare con loro, ti montava davanti. Ma la cosa incredibile di quel viaggio è che non essendoci internet avevi il tempo per stare con le persone. Avevi il tempo per osservare, avevi il tempo per interagire, avevi il tempo per parlare. Oggi quanto spesso capita che siamo a tavola e spunta un cellulare dall'altra parte. Perché? Per noia. Magari stai parlando e l'altra persona prende il cellulare e lo vedi che comincia a scrollare e dici sti cazzo, ti sto parlando. E immancabilmente lo fai anche tu perché poi lo fa lui, tiri fuori il cellulare e lo fai pure tu. Poi lo fa un altro e ti trovi in una tavolata di persone tutti col cellulare, nessuno che parla più ma sono tutti da un'altra parte. Invece lì in Africa, a Capoverde, eri lì e lì stavi e lì dovevi stare, non c'era alternativa. E quel viaggio è stato stupendo per quel motivo lì. Perché eri costretto nel bene e nel male a stare lì, a essere presente, a essere lì, a interagire, a parlare, a dire ok cosa facciamo dopo, che bella la cosa di prima, mai visto lì, ma perché non andiamo anche di là, ma guardiamo la mappa, ma leggiamo nel libretto, perché c'era il libretto, non c'era, navighiamo e ci perdiamo poi in cosa stavo cercando, non succede mai. Quindi non è un video per dire come si stava bene quando si stava peggio, ma è un video per dire tutta questa tecnologia che è una figata e è utilissima e grazie al cielo che c'è, è fantastica, ma è pericolosa perché anche se siamo fisicamente vicini, molto spesso siamo mentalmente ristanti, emotivamente ristanti e quindi dobbiamo essere più presenti, dobbiamo esserci di più, dobbiamo essere più consapevoli di questa cosa e magari utilizzare anche dei piccoli stratagemmi che possono essere sciocchi, ma sono molto saggi. Il telefono non sta mai a tavola, il telefono non deve neanche comparire a tavola, il telefono sta lì sopra, lì in fondo e non c'è telefono a tavola, perché a tavola si parla, si chiacchiera. O come potrebbe essere il telefono in camera da letto non entra, è da un po' di giorni che lo sto facendo, forse una settimana, ma il telefono in camera da letto non entra, li sto tenendo volutamente tutti e due fuori e se voglio guardare qualcosa esco dalla camera da letto, perché la camera da letto dormi. So che è una cosa che sembra sciocca, ma non lo è affatto, perché la tua mente si abitua a rituali disfunzionali e siccome il telefono assorbe molta energia e molta attenzione e l'obiettivo della camera da letto è dormire, può fare altre cose interessanti, ma diciamo principalmente dormire, deve rimanere quello e va tutelato, perché il sonno è uno degli indicatori più importanti per una vita lunga e sana e molto spesso abbiamo già mille altri fattori che ce lo rovinano, quindi no telefono a tavola, no telefono in camera, magari sarebbe saggio anche no telefono appena sveglio, che appena ti alzi e apri gli occhi ce l'hai sul comodino, la prima cosa, no, non lo devi avere sul comodino, così non è la prima cosa che fai. E queste sono delle considerazioni sul quanto questo oggetto meraviglioso che ha aperto la possibilità di comunicare al mondo, in realtà ci sta privando del contatto vero con il presente. Riflettiamoci.